mi devo scusare nello scorso episodio ho detto pulitura invece che pulizie come molti di voi mi hanno fatto notare la parola giusta utilizzare in questo caso la pulizia ma non è vero perché in realtà la parola corretta è esattamente pulitura perché pulizia sta per pulire tipo una casa qualcosa in modo da renderla elegante e pulita mentre pulitura elevare l'impurità da qualcosa quindi diciamo qualcosa che sia simile a un fondale marino elevare le sue impurità o fantastico tutta la gente che va a dire qualcosa che non ho sbagliato e che invece avevo detto giusto mentre molte persone anzi tutti nessuno si è mai reso conto che io spesso dico realisticità quando realisticità non è mai corretto e dovrei dire realismo e nessuno me l'ha mai fatto notare certo mio padre perché è un po più puntiglioso tra l'altro adesso che c'ho pure dizionare in mano se andate a controllare per bene andate alla S potete andare a cercare c'è scritto ciao io ma quindi nello scorso episodio abbiamo costruito la base della torre della farm di guardiani che andremo a costruire oggi e ho visto che ha molto piaciuto il nuovo stile di costruzione qua e le è piaciuto un casino questo progetto molti volevano che aggiungessi molte più luci ho detto molte un sacco di volte all'inizio di questo video qua un sacco di persone volevano che io aggiungessi delle altre luci sul fondale dell'oceano in modo che si vedesse di più il fondale dell'oceano appunto ma non cambia niente anche se ce ne aggiungessi molto di più la situazione sarebbe comunque la stessa e non credo cambierebbe più di tanto anzi diventerebbe un pochino strano perché diventerebbe tutto fluorescente e non ha molto senso comunque quello che andiamo a fare oggi è appunto costruire la farm di guardiani finalmente perché ormai è da due episodi che porta avanti sta cosa qua della farm di guardiani e non ho ancora fatto praticamente niente ho sfruttato l'oceano preparato il tutto però diciamo la vera fam di guardiani non è ancora iniziata e finiremo tutta la torre perché voglio finire tutta la torre potrei aggiungere qualcosa attorno ma forse quello lascerò per qualche episodio più avanti perché già da tre episodi che continuiamo in questa zona qui e preferirei cambiare il prima possibile non perché non mi dispiace ma perché non vorrei che diventasse un pochino monotono tutto e voglio tenervi freschi freschi con nuovi progetti e cose nuove in ogni episodio perché è il modo più divertente di giocare questo gioco qua quindi la torre è grande c'è voluto molto del previsto perché una determinata cosa che poi mi spiegherò per bene ci ho messo un sacco di tempo a progettare perché ogni volta che facevo diceva non va bene dove buttare giù tutto e farlo da capo e organizzare tutto e copiarlo di nuovo e farlo era un casino quindi vedrete dopo qual è la parte a cui mi riferisco però comunque sono molto felice del prodotto finito adesso iniziamo a fare la prima parte della torre perché ci sono più livelli più cose una sopra l'altra e quindi bisognerà iniziare con quelle e penso che sarà molto interessante quindi iniziamo non si può fare tutto in fretta adesso bisogna fare le cose step by step e devo mostrarvi una parte dopo l'altra perché ogni livello della torre sarà molto diverso rispetto al precedente e ci avrà della logica diversa rispetto al precedente quindi devo spiegarlo in modo dettagliato adesso una cosa che sicuramente fare in futuro ma non fare un questione qua è che dovrò aggiungere qualcosa qui perché è un po' vuoto e vorrei aggiungere qualcosina per decorare però visto che ci sarà molto altro nell'episodio non c'avevo tempo di fare anche questa cosa qua perché sennò mi sarei ucciso per farlo vedere ve lo devo mostrare un pochino dall'alto anche se dall'alto probabilmente non si vedrà più di tanto perché è la base della base della base quindi non posso mostrare più di tanto facendolo vedere da qua anzi forse rende anche strano perché manca tutto il resto è semplicemente la base del appunto ho già detto tre volte la base sopra la base della torre adesso cosa serviva questa parte qua serve anche a creare un po' di spazio per successivamente aggiungere dentro la fama di guardiani perché serve un punto dove mettercela e questa zona qua non può avere finestra non può avere niente riguarda verso l'interno adesso una particolarità di questa cosa qui se riesco a fermarmi non più di tanto però bene ho fatto una cornice 4 1 in quarzo ho messo questa cosa qua come decorazione in quarzo però la parte centrale è tutta in legno con molto birchwood appunto il birchwood non è il mio blocco preferito quindi cerco utilizzarlo più che altro nella base visto che si vedrà un pochino meno e cercherò di utilizzarlo meno verso la vetta ho dato questa forma qui per non aggiungere troppi dettagli per tenerlo comunque abbastanza semplice ma contemporaneamente allargarlo verso questa parte qua perché sopra dovemmo aggiungere qualche cosa di veramente circolare in base a come avevo fatto la torre qua sotto non veniva quindi ho risolto il problema mettendo facendo in modo che appunto questo legno scisse fuori in questo modo che secondo me funziona molto bene adesso come già detto non rende molto bene finché non ci aggiungiamo la parte successiva quindi metto subito a farla ok questo è già molto più interessante rispetto a quello fatto vedere prima e come ho già detto prima quello di prima adesso è migliorato molto ve l'assicuro non ho ancora fatto la parte della fama di guardiani e probabilmente la prossima cosa che faremo perché visto che dopo mi servirà molto dark prismarine dovrò appunto iniziare a farmare per bene guardiani per il momento tutto il dark prismarine che ho utilizzato è grazie appunto il fatto che dovendo sottare tutto comunque ci sono un sacco di guardiani avrò raccolto le cose da loro però come vedete quelle colonne lì sono molto simili a quello che ho costruito invece la sopra perché hanno l'incirca stessa forma sono un pochino differenti una dalla rispetto all'altra un pochino più alto un pochino alla base più grande rispetto alle altre però comunque stesso concept qua ho creato praticamente una corona con queste punte quattro uno adesso una cosa vedete che uno dei principali colori colori che utilizzeremo sarà il magenta per le finestre perché secondo me contrasta molto bene tutto il resto e funziona molto bene come colore è strano è una combinazione colori strani ma mi ha sempre fatto impazzire quindi la utilizzo esageratamente volentieri se mi state chiedendo pure dove ho preso tutto questo quarzo qua mi metto a far male nel nether non è così difficile da raccogliere come tumulti pensano che sia ovviamente tutto quello che andrò con lo sto raccogliendo quarzo praticamente all'inizio della serie perché c'ho in mente sto progetto dall'inizio e quindi volevo avere del quarzo da parte però probabilmente quando finiremo questa cosa qui non potrò neanche continuare in nessun caso nel prossimo episodio a fare costruzioni di questo tipo qui perché avrò finito completamente tutto il quarzo che ho formato per il momento però ad esempio una delle cose che dovrò cercare di fare un futuro ma per il momento non ho un codice di fare è di rendere questo posto utilizzabile perché vedete quattorno c'è praticamente un balcone che ho creato per vedere verso l'esterno sono delle finestre tutto ma non c'è modo per raggiungerle e personalmente voglio che ci sia un metodo ma per il momento proprio non lo farò in alcun modo anche la farm la raggiungerò tramite un buco sotto terra non farò niente di dettagliato esagerato Elegante quindi per il momento ci limiteremo a quello però sì questo è quello che ho fatto e come vedete la parte sotto secondo me migliora moltissimo proprio perché c'è questa parte sopra che si collega sopra in quel modo lì che è praticamente queste punte che scendono verso il basso e funziona secondo me molto bene rendendo tutto molto più carino adesso però mi servono prismani, mi servono materiali Iniziamo a fare la farm. Non è bello quando lavorate e potete mostrare tutto e dare un impatto potente di oh guarda quanto cosa ho fatto Non si vede un cacchio però no non ci ho messo molto fare sta parte qua e ponente la parte più semplice di tutto il progetto Ho fatto appunto la farm di guardiani fatta tutta è in produzione non è ancora elegante ma che problema c'è adesso per Raggiungerla oltre al fatto che mi distruggerò qua sotto perché per il momento ho risolto problema dell'entrata facendo un buco nella parete qua Visto che non c'è un modo per raggiungerla per il momento poi ci ho preferito a fare un buco nella parete e Limitarmi a questo tutto quel ferro che vedete lì l'ho preso dalla farm di enderman e PAM e ferro che c'ho nel land però appunto qua è dove arriverà tutta la roba ho fatto così tante chest perché appunto visto che Prima o poi arriverà una versione del gioco dove questo tipo di farm qua verranno rotte Accolgo tutto il prismani da qua fino alla fine del mondo così mi basta per sempre Adesso qua ci sarà poco c'è già abbastanza la farm in funzione da pochissimo perché ho appena finita di farla e Sarà molto difficile mostrarvela perché non so come entrare sarà un casino probabilmente mi attaccheranno un sacco di gente però il Consente è molto simile a quello che ho fatto in minecraft ita c'è una zona d'acqua dove nascono i Guardiani cadono dell'acqua che li concentra in una zona centrale cadono in questo tubo qua sotto Muoiono per donna la caduta e loro drop vengono portati su e messi qua dentro è molto semplice adesso cerco di Entrare dall'altra parte per mostrarvelo un pochino meglio ho lanciato la work chest plate Fantastico wow grazie gioco e per mostrarvelo devo per forza bucare qua e la potrebbe finire molto male quindi No c'è tutta l'armatura quindi non succede niente poi puoi sopravvivere alla lava con questa armatura qui vedete Non si vede molto bene in realtà quindi altra cosa non lo faccio molto spesso però in questo caso voglio mostrarvelo per bene quindi Lavo un attimo le shaders sott'acqua con le shaders non si vede molto bene adesso appunto non è niente di complesso come vedete ed è L'acqua che cade in basso ti spinge in basso qua c'è appunto del Delle design per far cadere i Guardian qua sotto dopo dopo con dell'altra acqua vengono portate al centro Cannone di sotto e muoiono qua in fondo per danno da caduta non c'è niente di difficile non c'è niente di complesso quindi è una cosa esageratamente semplice che si può rifare senza Alcuna difficoltà adesso non spavano niente perché sono io e quindi hanno tutti paura hanno tutti caga perché c'ho l'armatura in diamante C'ho l'armatura incantata e c'hanno tutti Paura di me vediamo se esco a Uscire fuori in modo elegante non più di tanto però riesco comunque uscire fuori comunque sì finalmente adesso posso iniziare a quegli materiali e finalmente Possiamo mettermi a fare la parte veramente particolare di questa costruzione qui che mi ha richiesto di farla Per un'intera settimana per un'intera settimana non ho fatto altro che continuare a costruire la solita parte e continuare a farla All'infinito fino a che non sono soddisfatto e adesso sono finalmente soddisfatto e proprio per questa ragione mi sembra ovvio che la farò in timelapse anche se la parte Più grande tutto il progetto quindi iniziamo E questa sì che è la cosa che ci mi c'è avuto più tempo per progettare in creativa perché come ho detto ho avuto un bel po' di problemi non so per quale ragione Lo so la ragione è la spirale la spirale è una forma praticamente Contro intuitiva per minecraft perché ogni cosa quando andava a progettare era contro il fatto di diventare una spirale E c'erano tantissimi alti metodi per renderlo più sensato e non rendono una spirale rende cose molto più semplici Ma io è da anni che voglio fare una spirale da un sacco di tempo che voglio riuscire a faccela e finalmente sono riuscito non è assolutamente Semplice è stato più difficile del previsto fate adesso se vedete Non esiste ancora all'interno l'ho già detto però se continua a salire di qua prima o poi arriviamo verso la cima e Sulla cima ovviamente quest'anno non è la punta della torre la torre diventerà ancora più alta quello lo faremo tra poco mi piaceva troppo l'idea Di continuare a tenere questo tetto che gira tutto attorno alla torre con appunto le stesse decorazioni che avevamo fatto sotto con lo sprawl sud Che crea questi questi Arricciolamenti del legno che a me piace tantissimo e ha funzionato davvero molto bene la parte all'interno ho tenuto tutto in qua senza aggiungere troppi dettagli nella parte più in sopra perché Diventava troppo facilmente un'esagerazione di dettagli Che nessuno avrebbe visto quindi ho preferito tenere le cose in modo molto semplice La parte ovviamente però che è un pochino più grande dove c'è un pochino più di spazio tra una spirale e l'altra Ho preferito metterci pure del delle colonne delle delle finestre roba del genere sono me stanno comunque molto bene Tra l'altro adesso non posso vedere ma probabilmente dentro la fine dell'episodio ve lo farò vedere comunque Oppure pensato per bene ad illuminare la costruzione per questa qua non è tipo il villaggio urale che sono poveri che hanno da tenere le cose in quel modo lì Questo qua va ben illuminata e tenuta anche visibile durante la notte e infatti l'ho fatto e dopo ve lo farò vedere per bene Adesso però visto che non è notte visto che dobbiamo comunque andare avanti con l'episodio Perché non continuiamo a fare la torre e continuiamo a mettere qualcosa su quella cima lì Che praticamente è un po' interrotta a caso E ho aspettato un pochino che arrivasse la notte anche per mostrare questa cosa Non è ancora tutto c'è ancora da fare un pochino di torre ma volevo mostrarvi anche questa parte qui perché è interessante Adesso come vedete ho aspettato un pochino che arrivasse la notte Non è ancora notte completa però già vedete che il tutto si illumina e funziona anche di notte Non è che ho messo tutto completamente spento come faccio spesso In effetti dietro ogni finestra metto un sacco di silentran apposta per illuminare il tutto E un pochino nascosto in giro per la spirale ho messo poi qualche luce Adesso però ho aggiunto qualcosa là in cima Che come vedete è organizzato in un modo strano Visto che il passaggio dalla spirale alla parte successiva era un pochino strano da organizzare E roba del genere ho trovato questa situazione qua che mi piaceva tantissimo E quindi sono stato felicissimo di utilizzarla Che è non collegarli veramente In realtà è tutto sorretto praticamente da delle colonne qua queste quattro colonne qua ai lati E funziona benissimo secondo me Adesso ho visto un creeper C'è un attimo di paura Qua ci ho messo pure una finestra con della luce perché ci può stare Forse in futuro se ci mettiamo qualcosa dentro tipo un portale del nerd per arrivarci O qualcosa che lo renda utile potrebbe comunque tornare utile creare Oh ho detto di nuovo un sacco di volte utile In questo episodio qua non so molto bravo a parlare Che ci renderebbe un pochino la costruzione più utilizzabile non semplicemente estetica Non ci rende il negativo però Diciamo che mi ritrovo troppo spesso a fare soltanto roba estetica Quello che ho fatto qua in cima è mettere praticamente quattro balconi Organizzati in questo modo Mi piace davvero molto Ho illuminato anche questi qua per renderli interessanti e tutto E secondo me funziona molto bene Ho proprio deciso di un pochino allargare di nuovo la torre Adesso però non andremo molto più in alto rispetto a prima Perché mi piaceva comunque come stile Cioè non si allarga più di tanto Ma puoi vedere nettamente che c'è Praticamente una parte più larga rispetto a quella precedente Vedete che praticamente questa parte qua esce leggermente di più rispetto a La parte centrale della torre Quindi un pochino riesce Però adesso andremo a fare l'ultima parte della torre E comunque mi sto facendo davvero un sacco questo progetto Mi sto divertendo un casino a farlo E finalmente questo progetto colossale della torre È finalmente finito E come vedete Ho finito con praticamente una corona in cima L'ho reso molto particolare Adesso Come vedete ogni parte della costruzione è molto diversa rispetto a quella precedente La parte in cima è diversa sicuramente dal balcone sotto Perché il balcone sotto è principalmente di legno È molto diverso rispetto a quella precedente È diviso completamente rispetto alla spirale Spirale che è molto complessa e che c'ha questi pattern qua sopra Che poi è divisa sotto rispetto a La parte sotto che invece è caratterizzata da colonne Divisa rispetto alla parte sotto che invece è principalmente legno con dei pattern sopra Rispetto alla parte attorno che in realtà sono altri pattern simili a quelli della spirale Rispetto alla parte sotto che sono gli altri È un attore che mi piace tantissimo Se devo ammettere è Probabilmente La costruzione che preferisco che abbia mai fatto in Minecraft Sono stanco Devo far uscire sto video domani È la costruzione che probabilmente preferisco di più che abbia mai fatto in assoluto È piaciuta davvero tanto Adesso sto cercando di mostrarvela pure Visto che la parte sotto non l'avete vista di giorno Quindi sto cercando di mostrarvela un pochino meglio in questo momento qua Perché ci sta bene anche mostrarla di giorno È figo vederla illuminata di notte ma anche di giorno comunque al suo effetto Adesso la parte Questa qua Ho messo in cima pure dell'Iron Bus qualcosa del genere Per renderla un pochino più appuntita rispetto al resto Ma la parte qua dentro Come ho già detto prima Vorrei Primo o poi Adesso sicuramente mi troverò per non farlo Perché non mi piace fare gli interni Però piacerebbe prima o poi dargli un minimo di scopo Non voglio fare gli interni Voglio dargli un minimo di scopo Voglio che tu ci possa andare a giro dentro questa torre qua Per il momento è un po' impossibile Perché Perché Non c'è niente dentro Se dentro c'è il vuoto Quindi Dovei risolvere come situazione qua Però Devo dire che In confronto alla torre che c'è qua sopra la tartaruga Contando anche il fatto che la torre è sopra una tartaruga E contando il fatto che quella torre lì Inizia praticamente dalla base del mondo Questa è un pochino più alta Se non sbaglio è circa 150 No 165 blocchi Non mi ricordo più quanto è alta Ma comunque è abbastanza alta In futuro voglio aggiungere qualche esalta cosa In questo mondo qua Ma vedremo in futuro Adesso non ho ancora deciso C'ho delle idee ovviamente C'ho Un concept su come costruire questa zona qua Poi al momento voglio passare a qualcos'altro Voglio vedere cosa fare nel prossimo episodio Forse Finalmente farò qualcosa di un pochino più leggero Non lo so Vedremo Ma adesso abbiamo di fine il video C'è un'altra cosetta Mi starete chiedendo Perché sei venuto qua Nella zona del viaggio orale Nella zona principale Alla casa Quello me lo dovete chiamare Perché è uscita la nuova versione Della texture di minecraft Che Che sarà quella del futuro Ma non è ancora ufficiale Quindi alcune cose potrebbero cambiare La solita roba È la versione Aspettate che vi trovo il nome F81517CA5 Ok capite È la nuova versione Sono cambiato un pochino di cose Le cose principali che sono cambiate È quello che la gente non piaceva per niente Della vecchia versione Un miglioramento Ma non sono ancora questo gran che a mio parere Potrebbero essere ancora migliorati Oh ecco qua Qua c'è la diorite Che è un pochino più Organizzata meglio Più principalmente a quello È meno nitida Rispetto a quella precedente La nitida era Bianco e nero Uno accanto all'altro Faceva davvero schifo La granite secondo me La diorite secondo me Non è ancora utilizzabile La granite forse l'ho già di più Vabbè anche la granite vecchia Era già un pochino più utilizzabile Però adesso è un pochino più simile A una roccia Ha una forma diversa rispetto a quelle altre Quindi ci può stare assolutamente Altri principali cambiamenti Sono stati appunto Il vetro Che adesso è simpatico Anzi Invento un attimo in un mondo Incredibile per mostrarvelo Ok mi metto qua dietro Così non si vede niente È tutto tranquillo Non vi spoilerò niente Il vetro È più carino Ci sta Non è esattamente come quello vecchio Però è stato migliorato Secondo me Meno dettagliato C'è meno roba Secondo me funziona molto meglio Quello vecchio Non quello vecchio vecchio Ma quello della vecchia versione Vabbè avete capito Era troppo strano Non mi piaceva Adesso Quelli che sono cambiati Principalmente sono Il blocco d'oro Il blocco di diamante E il blocco di smeraldo Perché sono cambiati tutti e tre Adesso Blocco di diamante Preferivo quello della scorsa versione Blocco di oro Non credo sia cambiato più di tanto Blocco di smeraldo È stato reso Un pochino meno contrastante Quello di diamante non mi piace La gente si è lamentata tantissimo Del fatto che fosse Ah ma non ci posso costruire una casa in diamante Perché dovresti costruire una casa in diamante Scrive appunto per rendere come punto di interesse La gente vuole tutti i blocchi Come se fosse utilizzabile Per farci un'intera casa Quindi l'ho dovuto cambiare di nuovo Tanto sono cambiati poi questi due Che Ehm Eh Fanno cariare entrambi Non mi sono mai piaciuti Neanche quello del Polish Endset L'utilizzo davvero pochissimo Soltanto per Anche quelli come punti di interesse E cos'altro è cambiato Uh Questo è cambiato davvero tanto Questo è cambiato davvero tanto Altro che La Nedrak è completamente diversa Aspetto a quella vecchia Non è un peccato Non è un male Perché quella vecchia è davvero brutta Però è abbastanza diversa La Soul Sand non so se l'hanno chiamata di nuovo Ma mi sembra leggermente diversa E finalmente il Magma Anche questo l'hanno un pochino Reso diverso È più rosso E sembra più un Magma Quello vecchio era Era troppo farintendibile Anche con del miele Cioè la gente utilizzava per fare Praticamente degli alveari Era un po' strano Non funzionava bene Se mi aveva utilizzato per quello E solo una delle texture Che con il passare del tempo Mi convince sempre meno È questa Quella vecchia Era più rovinata Questa è fin troppo precisa Quindi Eh Forse potrò Ritornerò a quella vecchia Credo che siamo a posto Siamo a posto Quindi adesso dovrebbero essere cambiati Non so se sono cambiati di nuovo Non mi ricordo Perché ci sono troppo casino Queste texture qua Comunque sì Anche queste nuove texture qua Sono molto sicuro Che forse quella dell'Ossidiana Non ne sono sicuro Di quella dell'Ossidiana Ma più che altro Quella dell'Osmeraldo Sono sicuro di aver cambiata Perché nessuno gli piace ancora A me piace Preferivo Non è che preferivo quella vecchia Però mi preferivo Che tenesse un po' più lo stile Di quella vecchia Con questa nuova estetica Per il momento non è ancora così Quindi vedremo Cosa succederà in futuro La Diorite sono sicuro E cambierà Perché l'ho già visto Un sacco di gente del tipo È un miglioramento Ma non lo utilizzerò mai Quindi quella che secondo me Molto probabilmente cambierà E per il resto Quello Ma io non so cosa farò Nel prossimo episodio Non so quale saranno I prossimi progetti Che porteremo avanti In questa serie qua Vedremo Perché non lo so ancora Forse torneremo alla casa Farò qualche cosetta della casa Aggiungerò qualche farm Lì dentro O prenderò un pochino più efficiente Non lo so Vedremo cosa fare Ma quindi Spero che abbiano avuto Spero di un prossimo episodio In Minecraft time Ciao a tutti Ciao a tutti